Buongiorno, mi trovo a Morbio Inferiore, vediamo un appartamento in una casa bifamiliare, è un tra i locali al piano terra. Qua è l'accesso principale. Da questo lato, oltre questa porta, c'è anche la lavanderia, è in uso appunto con due appartamenti. Abbiamo questo altro di ingresso. Qui la prima camera, queste menzoline vengono rimosse, sono parte del piccolo ripostiglio che è presente. Da questa finestra vediamo il giardino, giardino di competenza dell'appartamento, usciamo a vedere anche l'esterno. Abbiamo il bagno, bagno completo anche di bidet, mobile dell'ammapo, specchio, water, una finestra che guarda sempre sul giardino e qua un bel box doccia. In fronte a questo ripostiglio, qua c'è anche una presa per mettere eventualmente un congelatore. Un'altra camera che può essere anche il salotto, oppure una camera che guarda invece sul fronte della casa, dove abbiamo i due posteggi. I posteggi sono esterni, uno questo qui e qua abbiamo al lato il secondo. L'appartamento ha una superficie di circa 70 metri quadri e qui la cucina, con accesso anche al giardino. Questo locale è abbastanza ampio, parliamo di circa 20 metri quadri, cucina che è completa, nuove stoviglie, forno, eccolo qua, forno elettrico, piano cottura in vetro ceramica, qui abbiamo frigorifero con congelatore. Andiamo a vedere l'esterno. Tutto questo è giardino, con anche una piccola zona dove si può installare un gazebo, un tavolo, zona barbecue per esempio. E tutto qua, giardino, fino lì in fondo. Sono messe animali, gattini, cagnolini. Dal giardino si può arrivare anche passando di dove ci sono i due posteggi, si può passare oltre questo cancello e si accede con entrata indipendente direttamente in appartamento da qua. Grazie, ti affitto! grazie. Grazie! 然k